Ciao, siamo i tuoi bibliotecari. Insieme agli attori di Radice Timbrica Teatro abbiamo preparato un piccolo catalogo di consigli di lettura per la tua estate. Troverai molti fili in questi libri. Legami, amicizie, affetti, amori, fili che qualche volta si spezzano ma che poi si riannodano oppure se ne creano altri. Troverai storie di crescita, ragazze e ragazzi che cercano un loro posto nel mondo. Troverai natura, bellezza, avventura, dubbi, svago, estati e cambiamenti. Troverai diversi linguaggi, diversi stili di scrittura e diversi tipi di storie, tra cui alcuni bellissimi graphic novel. Troverai storie in cui ogni difficoltà e ogni forma di solitudine possono essere superate dal conforto e dal calore degli altri, dallo stare insieme, dal far gruppo, dalla vicinanza delle amiche e degli amici, talvolta di nuovi e inaspettati amici. Ci auguriamo che tu possa trovare tutto questo e altro ancora, molti fili da intrecciare e da raccontare. Nessuno ti chiederà di scrivere un compito o una relazione su ciò che, se vorrai, sceglierai di leggere. Nessuno ti obbligherà a leggere i libri che abbiamo raccolto per te. Sentiti libera, sentiti libero di lasciarti ispirare dagli indizi che ti daremo attraverso immagini, parole, frasi, paesaggi sonori, pensieri e brani che si nascondono tra le pagine delle storie che abbiamo scovato per te. E poi, se qualche filo ha solleticato la tua immaginazione, se qualche suono ti ha emozionato, se qualche immagine ti ha colpito, allora ti invitiamo ad andare nella tua biblioteca a prendere in prestito i libri che desidererai. E ora, siediti, sdraiati, accomodati e partiamo!